ciao a tutti se vi ricordate venerdì io e Francesco abbiamo fatto il video dove facevamo le nostre previsioni per la terza giornata di campionato e qui vado un po' a leggere dopo i risultati di Bologna a Verona guarda che sono stati un po' gli esiti allora Empoli a Venezia ha vinto il Venezia 2 a 1 e noi eravamo convinti che vincesse l'Empoli quindi questo qui l'abbiamo sbagliato tutti e due Napoli Juve io ero un po' più convinto che la Juve non avrebbe vinto infatti ho messo 2 a 0 per la Juve in effetti per il Napoli in effetti Napoli ha vinto ma 2 a 1 Francesco invece parlava di una vittoria della Juve e Atalanta Fiorentina ecco Francesco ha indovinato esattamente il risultato infatti parlava di 2 a 1 per la Fiorentina e in effetti sono stato quello lì io pensavo in un pareggio invece Sampdoria e Inter qua invece sono stato più bravo io perché ho indovinato esattamente il punteggio che era 2 a 2 infatti è stato 2 a 2 per Cagliari Genova avevamo detto tutti e due che avrebbe vinto il Genova infatti ha vinto il Genova con un gol di scarto noi avevamo detto che avrebbe vinto 1 a 0 la partita è stata un po' più ricca di gol e definita 2 a 3 per il Genova Torino Solernitano era abbastanza facile abbiamo preso tutti e due la vittoria del Torino e abbiamo avuto un po' più di problemi a beccare il risultato in effetti i quattro gol non ce li aspettavamo però insomma io ho detto che avrebbe vinto 2 a 0 Francesco ha detto che avrebbe vinto il Torino 3 a 2 abbiamo detto tutti e due che avrebbe vinto il Torino l'abbiamo zeccata ma non certamente il risultato Spezia Udinese ha vinto l'Udinese 1 a 0 noi avevamo detto tutti e due che avrebbe vinto sì ma di due gol e Milan Lazio io l'ho indovinato che avrebbe vinto il Milan ho detto che avrebbe vinto 1 a 0 in effetti però poi alla fine ha vinto 2 a 0 Roma Sassuolo davamo tutti e due la Roma favorita guardando la partita l'abbiamo guardato assieme in effetti non era poi così 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 netta la dominanza della Roma la Roma ha giocato meglio per carità ha fatto una bella partita ma anche Sassuolo si è fatto intendere e comunque la Roma è riuscita a vincere soddisfazione di Francesco che era umanista come voi sapete però eravamo stati più larghi noi nel punteggio infatti lui parlava di un 4 a 1 io parlavo di un 3 a 0 e Bologna e Verona invece abbiamo beccati tutti e due abbiamo detto 1 a 0 in effetti 1 a 0 insomma non siamo stati bravissimi ma qualche risultato l'abbiamo preso la maggior parte delle indicazioni le abbiamo date giuste dobbiamo migliorarci ancora faremo anche la quarta probabilmente e vedremo se affineremo la nostra capacità di indovinare i risultati ciao a tutti buona serata